I carabinieri della stazione di Real Monte erano andati ad effettuare un controllo presso una struttura sanitaria di accoglienza per anziani, finalizzato a verificare le condizioni igienico-sanitarie di lavoro. Hanno invece beccato una lavoratrice in nero che percepiva, peraltro, il reddito di cittadinanza. Si tratta di una donna di 40 anni, di Portempedocle, che durante il controllo dei militari dell'arma è stata sorpresa a lavorare nella struttura come inserviente, seppure senza un regolare contratto di lavoro. Durante i successivi accertamenti è emerso l'aspetto più grave della vicenda, ossia il fatto che la donna percepisce il reddito di cittadinanza, ammontante ad alcune centinaia di euro mensili. A quel punto, oltre alla multa contestata al datore di lavoro per aver impiegato una persona senza un regolare contratto, è scattata per la quarantenne di Portempedocle la denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di truffa e danni dello Stato. I militari dell'arma le hanno inoltre sequestrato l'apposita tessera che consente di incassare e fruire ogni mese del reddito di cittadinanza. Altri casi del genere sono già stati scoperti e infatti i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno disposto serrati controlli in tutti i comuni della provincia. Pare siano tra 2.500 e 3.000 i fruitori del reddito di cittadinanza a Sciacca negli altri comuni che fanno riferimento alla sede IMSS di Via Lazio. Grazie a tutti.